Un saluto dalla redazione del Tg della Mobilità. Tornano a scioperare i lavoratori del trasporto pubblico. Domani 2 dicembre, per un'agitazione indetta a livello nazionale, anche a Roma e nel Lazio saranno possibili disagi sulle reti Atac, Roma TPL e Cotral, dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine. Servizio. Protesta anche per i lavoratori delle ferrovie dello Stato, dalle 21 di oggi alle 21 di domani sera. Le altre notizie al via una nuova fase di potature in via Merulana, oggi sino alle 17, poi nei prossimi giorni dalle 7 alle 17 la circolazione sarà modificata tra Largo Brancaccio e Viale Manzoni, deviate anche le linee bus 16 e 714. Su Bus e Tram la carta di pagamento diventa il biglietto. Dopo la metropolitana il pagamento con carte di credito, debito, prepagate in forma digitalizzata su smartphone e smartwatch sale a bordo dei veicoli di superficie del trasporto pubblico. L'installazione dei nuovi validatori inizia proprio oggi da parte di Atac. Entro la fine di dicembre, assicura Atac, il nuovo sistema sarà attivo su oltre 2.100 mezzi. Per il momento è tutto, un saluto dal Tg della Mobilità.